Benvenuti di nuovo in questo episodio di Final Fantasy Adventure Si ricomincia Quello che dobbiamo fare è prendere l'ascia da battaglia Di nuovo livello perché già ce l'abbiamo una Che è un'accetta che ci permetteva anche di Loro non si fanno ammazzare manco per il cavolo Vediamo un po' con le fiamme Quindi nuova ascia Il boss non è molto facile da sconfiggere Gli MP qui vediamo un po' Passiamo pure questo cobra Fire Qui bisogna usare la chiave Usiamo the key Ok Oh e vai Come che mettiamo Power Yes E vai Scappiamo subito Via 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 Ah qui devo fare così E qui si apre la scadinata Qui mi sa che ci vogliono altre chiavi No? Dovremmo andare di qua Ah ok Sì sì ora mi ricordo Nice Attaccarlo Non attaccarlo Per favore No E qui abbiamo aperto E lì l'abbiamo distrutto un altro Quindi per cui andiamo avanti Allora che salti dovete fare E qui abbiamo preso finalmente Where Che è quella accetta potente Di cui vi parlavo Proviamo a vedere questo where E qui mettiamo questo where In pratica c'è Si apre un solco Per poter entrare nel percorso Che poi ci porterà il boss E lì saranno caso gli amari Perché non è facile Non è per niente facile Quindi prendiamo il nostro Mattoc Mattoccone Facciamo così Ma andiamo avanti Dark Come ha fatto a darmi Dark Che era lontano un chilometro Un'altra chiave qua bisogna usare Un'altra chiave Apriti salamino E direi anche di curarci Questo boss potrebbe essere impossibile Allora E voilà E voilà E voilà Bene bene E vai L'ho distrutto Ce l'abbiamo fatta Abbiamo finito questo bastardo We did it Molto bene E da qui si finisce una grande avventura Anche di questo episodio Take this book with you And my help Received the magic book of news Learn and view Bene Adesso possiamo levare dalle palle la musica Ragazzi Ci vediamo Un prossimo episodio Grazie mille